buongiorno sono marco astore di bg log e benvenuti in questo nuovo video oggi ho il piacere di presentarvi uno dei nostri ultimi carrelli a scomparti realizzato per un'azienda del settore e-commerce costruito con profilo tubolare rivestito in abs bianco prodotto da noi nel nostro stabilimento giunti neri e ruote pivotanti dotate di sistema frenante esso consentirà al nostro cliente di trasportare i componenti e le parti in modo ordinato e ben organizzato infatti abbiamo previsto l'applicazione di 80 piccoli scomparti in di bond un materiale estremamente rigido e compatto resistente agli agenti atmosferici ma allo stesso tempo leggero ed elegante i vani evitano di danneggiare i particolari del nostro cliente fragili e delicati in modo tale che la movimentazione possa avvenire in assoluta sicurezza l'accesso avverrà da entrambi i lati e gli scomparti potranno essere anche numerati così da facilitare ancora di più l'individuazione dei componenti da parte dell'operatore evitando di perdere del tempo inutile quindi se stai cercando dei carrelli a scomparti visita il nostro sito www.vglog.it troverai diverse soluzioni realizzate per diversi settori produttivi